bene dovrei essere in diretta almeno credo almeno credo questo è la seconda occasione in cui ci incontriamo per quanto riguarda questa università della conoscenza voluta spingiamo questo voluta da anna tamburini torre e che ospita varie docenze tra cui queste che non vogliono essere delle proprie lezioni ma insomma un commento sugli insegnamenti dei maestri del cerchio firenze 77 e questi saranno fatti saranno svolti come già detto la volta scorsa in forma di letture minimamente commentate da me con la raccomandazione sempre di poi seguirle approfondirle ognuno per suo conto e di trarre il miglior profitto possibile da questo da questa che vorrebbe essere più un'esperienza che così che una lezione quello che le voci del cerchio firenze 77 ci hanno trasmesso hanno questo a questo significato poi ci si può limitare anche semplicemente all'esperienza cognitiva intellettuale sicuramente è già un passaggio interessante fare questo viaggio dentro gli insegnamenti dei maestri quelli che io chiamo i maestri loro non si sono mai presentati come maestri ma sono le guide del cerchio firenze 77 le guide spirituali e in ogni libro che andremo a leggere nel corso dei mesi davanti nelle nostre letture noi incontreremo in particolare alcune di queste voci che hanno parlato per tanto tempo per quasi 38 anni nella storia del cerchio firenze 77 parlato come sapete attraverso questo strumento meraviglioso che era roberto setti che era svolgeva la funzione di permettere questa comunicazione tra queste due dimensioni di esistenza la nostra quella di essere incarnati che ricevevano queste comunicazioni e un lo possiamo chiamare al di là un altrove una dimensione di coscienza che in qualche modo attraverso roberto setti ci raggiungeva e ci ha permesso di entrare in contatto con queste meravigliose comunicazioni cominceremo oggi la lettura non direttamente con la parte di insegnamento perché ho pensato che fosse utile per coloro che non conoscono per niente il cerchio firenze 77 che vi fosse almeno una piccola introduzione proprio delle delle guide che hanno parlato per tanti anni e che hanno costruito poi questo insegnamento e ce l'hanno consegnato queste guide all'inizio di ogni di ogni volume del cerchio firenze 77 perché poi queste guide hanno proprio composto i libri che sono pubblicati attraverso le edizioni mediterranee sotto la dicitura cerchio firenze 77 qui faccio subito una distunzione perché troverete per chi va a cercarle nelle librerie adesso che le librerie tornano ad essere accessibili troverete libri che hanno come autore scritto proprio cerchio firenze 77 altri libri che invece portano la dicitura scuola del cerchio firenze 77 quelli proprio costruiti voluti e costruiti dai maestri che contengono il loro insegnamento sono quelli che portano la semplice dicitura cerchio firenze 77 sono pochi volumi sono sei volumi in realtà quattro sono stati proprio costruiti l'editing stesso fatto è stato fatto dai maestri e un quinto volume che raccoglie anche le voci registrate e si chiama la voce dell'ignoto non fa parte della collezione dei libri di insegnamento del cerchio anche se anche là dentro c'è molto da apprendere e poi c'è un ultimo volume che è stato potuto redar redatto propriamente non è stato messo insieme dalle guide semplicemente perché è l'ultimo volume che è stato pubblicato postumo quando roberto setti concludendo la sua storia la sua esistenza ha anche concluso portato a compimento la sua funzione di medium e quindi quel volume raccoglie tutta la parte finale dell'insegnamento ed è stato composto quell'unico volume non direttamente dai maestri ma semplicemente mettendo in ordine cronologico tutte le ultime lezioni che concludevano precisamente l'insegnamento che si è svolto in tutti questi anni queste voci si sono presentate a noi con personalità diverse voci diverse tra di loro hanno mantenuto inalterati i loro caratteri peculiari nell'arco di questi 38 anni riconoscibili molto riconoscibili nello stile espositivo nelle loro voci nelle modalità con cui si presentavano queste voci dicevo in ogni volume c'è una parte dedicata in maniera particolare ad alcune di queste voci che più di altre hanno svolto questo compito di insegnamento per tutti questi anni e queste voci sono dali claudio la sorella teresa e campis ve ne sono poi altre che sicuramente hanno partecipato in maniera molto importante in tutto questo percorso ma diciamo che queste sono le voci più presenti e che più hanno contribuito alla costruzione dell'insegnamento filosofico vero e proprio in particolare per quanto riguarda l'insegnamento filosofico soprattutto il maestro campis che ha affascinato centinaia migliaia migliaia di persone con il suo elopio meraviglioso la sua logica raffinatissima cominceremo quest'oggi la lettura con primo volume il primo volume del cerchio che si chiama dai mondi invisibili quindi autore cerchio firenze 77 titolo dai mondi invisibili sottotitolo incontri e colloqui e tra le edizioni mediterranee le edizioni mediterranee hanno curato tutti i volumi del cerchio fine 77 pubblicati in quegli anni e sono ancora ben vivi e vegeti dopo oltre 40 anni di vita che è una cosa straordinaria per un libro sapete dopo pochissimi due tre quattro cinque anni massimo libro di solito morto e defunto questi sono sempre più vitali e incontrano sempre di più lettori desiderosi di leggerli cominceremo dicevo con dali dali tra le guide del cerchio tra le guide del cerchio sono quelle è quella che si occupava di iniziare aprire le sedute e successivamente di concluderle era una di quelle guide che una voce amorevolissima si presentava sempre con un intenso profumo di violette che dovete dovete pensare questo nel buio delle sedute per chi partecipava frequentemente alle riunioni del cerchio avveniva che le varie voci fossero preannunciate dal loro particolare peculiare profumo quando arrivava dali subito prima del suo arrivo nella stanza si stanza si saturava di un profumo intensissimo di violette fragranti meraviglioso questo delle profumazioni era anche un fenomeno particolare perché perché quando un'entità abbandonava lo strumento cioè roberto setti e ne subentrava un'altra nella stanza la stanza era già satura di un profumo ma improvvisamente come se ci fosse qualcosa che per una forma di magia di evento soprannaturale quel profumo che aveva saturato la stanza scompariva veniva sostituito non si mescolava ma veniva proprio sostituito da un altro cioè il profumo sempre di un fior di un altro per esempio se veniva teresa diventava profumo di violette scompariva ed arrivava profumo intenso di rose meraviglioso ecco c'era questo sostituirsi quindi c'era questa esperienza paranormale olfattiva che annunciava le varie guide che poi si alternavano nel corso delle varie sedute maschili e via dicendo a proposito della della diversità dei caratteri vi voglio già leggere qualche cosa da pagina mi sembra che sia pagina pagina 67 e che dove si dice mi dicono qualche cosa sì ma mi dicono che l'audio non va tanto bene spero che devo alzare la voce mi sembra di parlare già voce abbastanza alta continuate a mandare segnali per avvisarci se si sente o non si sente perché io non ho modo di saperlo se questo avviene o meno allora vediamo se riesco a fare cose vedo qualche cosa si può alzare un pochino il volume il volume basso mi riuscite a sentirmi riuscite a sentirmi mi date un no se si sente sente molto basso basta alzare il volume io forse il volume del vostro apparecchio più che del mio provate provate un pochino e fatemi poi sapere ora vi stavo volevo vervi alcune righe dal primo volume facciamo un po di luce a proposito di questa diversità di caratteri a cui facevo scenno quelli di voi che già da tempo ci seguono dicono in queste comunicazioni le guide hanno notato come ciascuna delle entità che si presenta abbia un suo linguaggio il suo modo di far conoscere la verità le verità questo e questo è molto interessante non è perché ciascuno di noi vede in modo diverso dall'altro o perché vi siano in noi reminiscenze di ciò che abbiamo creduto nell'ultima incarnazione ma perché cerchiamo di esporvi la realtà da diversi punti di vista in modo che ciascuno di voi può comprendere attivando al linguaggio che gli è più congeniale non parliamo di tante verità ma di una sola verità di una sola verità espressa in un modo diverso vediamo un po cosa c'è una comunicazione adesso sentiamo cosa mi dicono sì 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 dimmi pure allora c'è da alzare il volume del computer è al massimo l'età al massimo? sì perché si sente mezza non si capisce mai non so se c'è una regolazione scusate questa introdizione tecnica sì c'è un tasso sul computer che alza e abbassa la volta sì questo si è già fatto ma non so se c'è una regolazione sul programma che stiamo usando questo non lo so dire no no va bene ci lascio lavorare bene grazie allora parlerò un pochino più forte ma forse poi dovremo trovare il modo farvi sentire un po meglio quello che dico spero che riusciate comunque a passimi mi sono anche avvicinato al microfono così mi vedete un grande faccione ma forse la voce arriva anche meglio di come è stata fino adesso voglio anche provare aiutarvi vediamo un po' ok questo così e questo lo mettiamo qua allora andiamo avanti andiamo avanti dunque la prima voce con la quale voglio mettervi in contatto che vi voglio far conoscere è una voce dolcissima io purtroppo non riesco a restituire la bellezza di questa voce di questa comunicazione amorevole una percezione proprio stando in seduta con Dali di un amore sconfinato un amore senza giudizio per cui quello che posso fare è solo restituirvi come meglio posso le espressioni di questa entità che era la guida la vera e propria guida delle riunioni tra l'altro Dali era anche quello che stabiliva la data delle riunioni la canzione delle riunioni quale doveva essere pensate che a differenza di qualsiasi altro fenomeno di medianità di medianità anche di comunicazioni o di fenomeni fisici generalmente c'è un gruppo che stabilisce quando trovarsi quando fare a seconda della disponibilità del medium o del gruppo quando ci si può trovare si stabilisce un giorno un'ora qui non avveniva questo questa tutta l'esperienza del Cerco di Firenze del 77 è stata guidata dall'altra dimensione ed era Dali che ogni volta diceva ci vedremo il tal giorno al tale ora si cercava che fosse sempre più o meno un giorno sempre lo stesso della settimana e l'orario quello ma veniva stabilito dalle guide non era possibile dire dai troviamoci oggi facciamo una riunione e parliamo con i nostri maestri questo non era possibile non avveniva non era questo lo stile comunicativo dei maestri del Cerco di Firenze del 77 con Dali poi Dali trasmetteva ogni tanto dei messaggi scritti attraverso Roberto con la scrittura automatica oppure oppure c'erano dei meravigliosi incontri a tu per tu che era possibile lui concedeva ogni tanto questa possibilità che alcune persone potrebbero rimanere nella stanza solo con lui e durante questi incontri potevano parlare di quali erano le problematiche della singola persona ma normalmente quello che avveniva erano delle comunicazioni di ordine di una grande qualità amorevole un meraviglioso senso di essere accolti da qualcosa che non capita di incontrare normalmente nella nostra vita vi leggo dunque da pagina 70 il primo brano di Dali che è intitolato La verità come conquista del singolo noi non abbiamo la pretesa di portarvi la verità la verità è una conquista del singolo nessuno può comprendere per voi gli uomini possono apprendere varie nozioni e trasfondere sui loro simili ignari il frutto delle loro conoscenze e giunto alla verità contrariamente a quanto si crede non può trasfonderla negli altri può dare solamente delle indicazioni ma non si debbono confondere le indicazioni con la verità le parole con la comprensione così non organizzatevi per diffondere la verità la verità è e basta e non organizzatevi neppure per diffondere le indicazioni se questo significa diffondere l'organizzazione ogni organizzazione finisce per l'essere più importante delle idee che professa così per non nuocere all'organizzazione si giunge a rinnegare i principi sui quali essa si è fondata in verità vi dico che l'organizzazione è simile a colui che vuole sfamare gli affamati parlando loro di cibo non cristallizzatevi sulle parole ma cercate di comprendere le indicazioni per essere valide cioè per essere un valevole intermediario che pensate di farlo e la verità e la verità debbono mutare con i tempi e con i popoli non debbono insegnarvi a cercare negli altri ciò che solo in stessi potete trovare non debbono parlarvi dell'aldilà senza insegnarvi a comprendere l'aldiquà. Che senso può avere conoscere come si svolge la vita su altri piani di esistenza o in altre visioni quando non sapete vivere la vostra dimensione? E la vostra dimensione è il presente. Non debbono insegnarvi ad atteggiarvi a buoni, altruistici, mansueti, pacifici, senza incitarvi a guardare in voi stessi, a mutare il vostro intimo. Non debbono insegnarvi a voler cambiare gli altri se prima non avete cambiato voi stessi. Non debbono insegnarvi un divenire, ma esservi di ausilio per raggiungere un nuovo essere. Solo a questo patto l'indicazione può essere utile. Temo che possa diventare un'esperienza molto lunga questa lettura dei maestri del cerchio, perché a me verrebbe da dire tantissime cose semplicemente su questo primo piccolo brano di Dali. Innanzitutto quello che vi invito a fare, non conoscendo l'esperienza dei maestri del cerchio di Firenze 77, come può essere per molti di voi, molti sicuramente li conoscono, ma molti no. Intanto sapere che ciò che io sto leggendo non è qualche cosa stilato da qualcuno che si è messo a un tavolino, ci ha riflettuto, ha scritto, ha guardato, ha corretto, ha costruito formalmente in questo modo. No, questo che io sto leggendo sono le trascrizioni esatte di quanto questa voce nel buio di una stanza ha detto durante una seduta del cerchio Firenze 77. Se voi osservate la perfezione lessicale di queste esposizioni e come siano esatte, corrette la scelta dei termini, l'equilibrio del brano, vi dico questo perché ho un'esperienza, prima di studiare da psicologo, la mia prima facoltà è stata lettere filosofia e a lettere in particolare critica strutturalistica, quindi la struttura della pagina, del paragrafo è stata parte di materia di studio, per me la apprezzo particolarmente questo che sembra un bel testo scritto, ma in realtà è stato detto. E questa qualità la troviamo per ogni voce che parla nel cerchio Firenze 77 con il suo particolare stile. Già questo è una cosa miracolosa di per sé, la perfezione dell'esposizione di queste guide è veramente straordinaria. Ma qui intanto si dice, almeno una cosa la voglio sottolineare di quello che abbiamo appena letto. A loro non interessa diventare, come posso dire, famosi in tutto il mondo, essere conosciuti da tutti. Loro dicono la verità è, punto e basta, non c'è da diventare alfieri della verità. La verità è qualche cosa che si conquista singolarmente, quindi non organizzatevi, non fate sforzi per costruire una chiesa, un'associazione, per cercare di diffondere, non fate questo in questo senso, perché le organizzazioni, dice Dali, spesso dimenticano il punto da cui sono partiti, cioè il cuore da cui sono partiti, e siccome si accrescono, crescono, 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 diventano potenti, hanno necessità di mezzi di sussistenza, non bisogna di farsi conoscere, di viaggiare, di portare il verbo in tutte le direzioni, poi l'organizzazione diventa molto più articolata, grande, pesante, della, quel nucleo di verità da cui sono partiti, per cui quel nucleo di verità diventa una cosa, non dico secondaria, ma insomma viene molto tralasciato, perché? Perché va protetta l'organizzazione, mantenuta, è fatto tutto quello che serve, perché l'organizzazione continui a sopravvivere per testimoniare quella cosa di cui ci si sta scordando. È molto interessante che qualcuno ci presenti una verità, qualcosa di meraviglioso, che accende i nostri cuori e al tempo stesso dite non fate niente per diffonderla, questa verità, non vi organizzate, non diventate una setta, non diventate una chiesa, non diventate niente di tutto questo, non fondate una religione intorno a questo, perché non è questo che serve, serve che ognuno scopra dentro di sé la propria verità. Solo questo è un messaggio rivoluzionario rispetto al comportamento consueto degli esseri umani. Ma vado avanti a leggere. Il vero concetto di amore, questi sono dei piccoli frammenti di comunicazioni solo di Dali, appartenenti solo a Dali, sono dei frammenti che hanno lo scopo proprio di presentare il modo di Dali, di comunicare con noi, con tutti noi, a suo tempo, con chi era presente, allora in seduta, ma poi oggi sono a disposizione di tutti noi, quindi sta parlando con noi, attraverso di me, indegno testimone di questa esperienza, il vero concetto di amore. Guardate che troverete fra l'altro in queste letture un'attualità incredibile. Allora, chi ha dia a chi non ha. Giustizia, ci vuole un mondo nuovo. Queste sono le esclamazioni di molti, particolarmente oggi, in un momento così difficile. Si analizzano le possibilità di costruire questo mondo nuovo. Si vede la possibilità nella politica, chi la vede nell'economia e c'è perfino chi la vede nella guerra. Noi invece la vediamo nell'amore. L'amore solo può dare comprensione del quale oggi c'è tanto bisogno. Ma consideriamo quanto poco questo amore sia penetrato nel cuore degli uomini e di tutti gli uomini, anche di coloro che appartengono a quella religione nata sotto l'insegna dell'amore. Non dice quale, ma capiamo bene. Fino ad oggi l'amore è stata una parola che le labbra hanno ripetuto molte volte, ma che il cuore non ha conosciuto affatto. Da questo procede tanta incomprensione. C'è chi vorrebbe togliere a chi ha contasse, insomma con la forza, con la violenza. Che vantaggio può avere questo? Lo sfruttatore rimarrà sempre uno sfruttatore. L'egoista un egoista. E rimanendo le cose in questo modo, si troveranno non uno, ma cento, mille modi di evadere le tasse, di continuare ad accumulare a danno degli altri. Le tasse non sono capaci di cambiare gli uomini, mentre sono proprio gli uomini che debbono essere cambiati. Tale miracolo solo l'amore può farlo. Solo l'amore può far donare spontaneamente, con gioia. I politici, gli economi, sono degli opportunisti, possono fondare nuovi partiti e sistemi come tanti ve ne sono. E' l'uomo, il singolo, che rendendosi consapevole della gravità del momento, sente e pensa in un modo nuovo. Un modo che fino ad oggi non è stato conosciuto che da pochi. Quando si ama una persona, si osserva quanto si è riamati. E se si è soli ad essere amati, si diviene esclusivisti nell'affetto, gelosi, egoisti. Io non parlo di questo amore, il quale è, come dice il filosofo, unismo a due. Io parlo di quell'amore che non è ragionato. Ma sentito che non si accresce quando porta profitto all'amante, che non si estingue quando arreca dolore. Quando respirate, voi prendete essenzialmente tutta l'atmosfera, perché essa è uguale per essenza sia in piccola sia in grande quantità. Così, figli, date l'essenza dell'amore puro, non preoccupandovi di quanta parte comprendono del vostro amore gli uomini. Siate come la rosa che dà a tutti il suo profumo, come il sole che splende sui giusti e sugli ingiusti, possiate voi dare e ricevere l'essenza dell'amore puro. Non devo commentare, è vero, perché alcune di queste cose veramente non ha senso commentarle. Ma continuo a leggervi ancora qualche cosa di Dali. Lui dice, tratta un argomento che è stato veramente molto, molto sviluppato. Pensate che questa cosa che vi ho appena letto, appena poco fa, subito prima, è stata pronunciata da Dali in una seduta del 1950, cioè una delle primissime sedute in cui i maestri si manifestavano attraverso un Roberto Setti che allora non aveva ancora compiuto 18 anni, insomma era proprio un ragazzino. Perché è una seduta del 1950, pensate. E quindi era una delle prime sedute in cui le voci si facevano sentire attraverso Roberto Setti. Queste voci, tutte diverse tra di loro, maschili, femminili, a un certo punto hanno cominciato a uscire dall'ugola, dalla voce, dalla bocca di Roberto. All'inizio anche un po' preoccupando chi era intorno a lui, intorno a questo ragazzo, che niente sapeva di queste cose, e che ha cominciato a pronunciare discorsi di questa levatura. E siamo appena ai primi semi di quello che è arrivato attraverso Roberto Setti, attraverso questi maestri. Questo argomento, osservare e rinnovarsi, è stato uno degli elementi, come dire, si è ritornato tante tante volte negli anni, perché ha costituito il nucleo di uno dei rami dell'insegnamento che è stato conosciuto, che è stato presentato come il conosci te stesso, cioè un modo per riuscire a cogliere aspetti di sé che altrimenti sono sfuggenti. Quindi dice qua, osservare e rinnovarsi. Siamo a pagina 71 del libro Dai Mondi Invisibili. Nello svolgersi del grande disegno universale, nel compiersi dell'evoluzione generale, vi è un naturale ritmo. Ogni individuo ha un suo ritmo di evoluzione. Tale ritmo singolare può essere diverso da quello generale in quanto è determinato dalla condotta dell'individuo. Colui che precede l'evoluzione dell'ansia alla quale appartiene ha trovato nell'intimo suo la sorgente di ogni vita. Felice è pure colui che cammina in armonia con lo svolgersi del disegno universale, con l'evolvere di ogni cosa. Questi non crea ostacoli al fluire della vita, si arrende ad essa. Vivere dunque, esaminare quanto vi circonda e cercare di comprendere la natura e la ragione dell'intimo impulso di se stessi. Semplicità e libertà. Non voluta resistenza ma reale superamento. Quegli che frappone ostacoli al naturale evolversi di ogni cosa crea attrito, crea dolore. Vivete, fratelli, non create barriere fra voi e la vita, non restate ancorati allo scoglio che fu di salvezza ieri. Perché oggi può essere un motivo di ritardo. Anche la vita, che è mezzo di evoluzione, sarà abbandonata. Ogni cosa, quando è inutile, muore. Ed essendo ormai priva di utilità, non riuscite. Siate quindi nuovi ogni giorno a ciò che la vostra vita non sia inutile. Anche questo, vedete, se si volesse approfondire veramente ogni riga, ma mentre leggevo questo, ogni cosa quando è inutile muore, dà anche un significato diverso alla visione che noi abbiamo della vita e della morte. La morte finisce per ogni essere umano, nonostante le modalità con la quale può avvenire questo evento del tutto naturale, avviene quando non c'è più utilità in quella vita. Cioè, utilità dal punto di vista dell'evoluzione. Perché, come vedremo, andando avanti con l'insegnamento, dopo la nostra esperienza esistenziale, è di compiere il nostro piccolo pezzetto, la nostra piccola percorzione di cammino nel nostro percorso evolutivo. Un percorso evolutivo nel quale, ad ogni incarnazione, noi compiamo alcuni passi lungo questo percorso. Quando abbiamo concluso, per quello che potevamo fare, quel pezzetto che siamo stati chiamati a interpretare, non è più utile che noi stiamo qua, e quindi avviene questa cosa che noi chiamiamo morte e che a noi fa tanto spavento, ci preoccupa, ci confonde. Qui è presentato come una cosa del tutto naturale. Quando una cosa finisce di essere utile, non serve più. Si passa ad altro. E la vita può essere in altri modi. Ancora un brano letto da Dali. Oggi vi presento Dali, la prossima volta vi presenterò un'altra delle guide. Rinnovamento e progresso. Siamo a pagina 72. Ben volentieri vi parliamo e da lungo tempo, costantemente, cerchiamo di rispondere alle vostre domande. Qui siamo già nel 1963. Perché voi avete qualcosa da chiedere e l'uomo in genere cerca di sapere, di conoscere la verità. Anzi, lui dice, ma perché voi avete qualcosa da chiedere e l'uomo in genere cerca di sapere, di conoscere la verità? Se non vi fosse nell'uomo questo bisogno di cercare la verità, se non vi fosse il desiderio di sapere, non vi sarebbe nessuna possibilità di miglioramento. L'uomo resterebbe quello che è. Nella più completa stasi è il desiderio di conoscere e, fra ciò che si conosce, di poter identificare la verità che conduce al progresso. Nelle scienze naturali, nell'evoluzione della specie, è conosciuta una possibilità della vita, quella di adattamento all'ambiente. Senza questa non vi sarebbe certamente evoluzione e molto probabilmente la vita sarebbe un fenomeno raro e molto precario. Ma le risorse di un organismo semplice o complesso entro certi limiti si mettono in moto quando l'ambiente viene mutato e l'organismo può sopravvivere a condizioni ambientali molto variate rispetto alle consuete. Potere dell'adattamento. La stessa costituzione organica muta per inserirsi in modo migliore nell'ambiente mutato. Ebbene, questo abituarsi del veicolo fisico, così provvidenziale, segue ed è regolato da una ben precisa legge che ha effetti anche negli altri veicoli dell'uomo. Più avanti noi vedremo che cosa intendono le guide come veicolo. Il veicolo fisico, il veicolo mentale, quello che si occupa, che ha a che fare con il pensiero, con le intuizioni, con il ragionamento, il veicolo astrale, che ha a che fare con le sensazioni, le emozioni, i desideri, i sentimenti, e via dicendo. Ebbene, ripeto questo ultimo paragrafo per ricollegarmi, questo abituarsi del veicolo fisico, così provvidenziale, segue ed è regolato da una ben precisa legge che ha effetti anche negli altri veicoli dell'uomo. Questi effetti stemperano i primi entusiasti e sembrano negativi. Le sensazioni ricercate e desiderate con intensità nell'abitudine, adattamento, si scolorano e a poco a poco non rappresentano più quell'incentivo che spingeva. Ci sta spiegando un po' come funzioniamo. Allo stesso modo avviene delle materie di studio, dell'attaccamento alle filosofie, degli amori giurati eterni. A un certo punto perdono questa loro spinta, questa forza. Ma è la stessa legge che opera, spinge l'individuo a cercare lo tiene attivo. Ciò che lo mutava da lui stesso mutato nella ricerca del nuovo, in ultima analisi, nella ricerca del progresso. Non si parla qui del progresso scientifico, si parla di una forma di progresso che ha a che fare con un procedere nell'uomo dentro il suo percorso evolutivo. Voi considerate nemico delle vostre istituzioni, della vostra società, colui che va controcorrente e nega ciò che comunemente si ammette. Ogni istituzione che dica di non aver più bisogno di alcuna cognizione, cioè di possedere tutta la verità, è una istituzione destinata a perire, poiché è chiusa ad ogni progresso, ad ogni ulteriore arricchimento del suo patrimonio di sapere. Non tiene conto che tutto evolve e si perfeziona e dicendo di sapere tutto si ferma, non cammina più col tempo ed è destinata a morire, ad essere superata. Il Cristo mosse l'umanità da una stasi non già ripetendo ciò che allora si sapeva, ma portando cose nuove. Egli fu per i suoi tempi una sorta di rivoluzionario, ma grazie a ciò che disse fu possibile all'umanità di allora avere un progresso. Proprio grazie a coloro che con le loro idee vanno controcorrente è possibile ottenere un ulteriore progresso nella scienza e nella società. Se questa società o la scienza dicessero di non aver più niente da apprendere o da dire oltre a quello che rappresenta il loro patrimonio di cognizioni in breve volger di tempo sarebbero destinate a perire. Noi vi parliamo ma non abbiamo la pretesa di dire che portiamo la verità del tutto, la verità nella sua interezza. Ciò che noi diciamo è un insegnamento ed è importante per voi che ci ascoltate, per altre creature che potranno venirne a conoscenza, ma le cose da sapersi sono moltissime. Vi siete chiesti cosa deve fare l'uomo della strada di fronte a tante scuole filosofiche, religiose, insegnamenti, predicatori, se non essere imbarazzato. E come può fare a conoscere qual è la via giusta? Nell'intimo suo egli prova ha il desiderio di sapere, ma di tutte quelle cose di cui egli può venire a conoscenza, qual è la verità. Abbandonando le proprie convinzioni che evidentemente non lo soddisfano, ecco che egli deve penetrare profondamente nell'insegnamento che gli viene dato. Deve vedere se questa verità che gli viene presentata spiega in qualche modo tutto quello che accade attorno a lui e se lo spiega in modo logico, in modo convincente. Noi non possiamo paragonarci ad alcuna religione, ma vi abbiamo parlato di quello che è attorno a voi per spiegare il dolore, per spiegare l'incomprensione umana, per spiegare la miseria e via dicendo contro la gioia, la ricchezza, la dissipazione, vi abbiamo parlato della realtà, delle leggi cosmiche e vi abbiamo fornita una spiegazione generale, insomma, è tutto un quadro completo che abbiamo cercato di darvi. Se questo quadro non vi risulta finito, se vi sembra che altre cose ancora possano esistere, ed è giusto, figli, allora chiedete e noi vi diremo altre cose. se invece vi sembra che questa verità per il momento corrisponda a tutte le vostre aspettative, per il momento corrisponda a tutte le vostre aspettative, a tutti i vostri desideri di ricerca, noi vi diciamo di tenere presente che molte altre cose ancora restano da sapere. Esistono tanti e tanti particolari che noi possiamo collocare perfettamente nei vari comparti di questo quadro senza contraddire il senso del disegno generale, anzi completandolo. Ma se vi sembrasse che la verità da noi portata invece non corrispondesse a ciò che avviene attorno a voi, allora cercate altrove. Poiché può darsi che il modo con cui noi vi parliamo non si confaccia alla vostra mente. ciò non vuol dire che non vi sia un altro linguaggio più comprensibile a voi. Comunque sia, sempre ricordate che istituzione, filosofia, religione o scienza che dicano di conoscere tutto e che nient'altro esista oltre quello che esse insegnano sono istituzioni, religioni, filosofie destinate a perire. Ripeto, il progresso avviene proprio in virtù del desiderio innato dell'uomo di ricercare, di conoscere ed è proprio in virtù degli individui che per il loro gran desiderio di conoscere riescono a demolire le barriere di cristallizzazioni ed aprire degli spiragli attraverso ai quali altre verità vanno ad arricchire le verità possedute e che le istituzioni umane progrediscono per il progresso degli uomini. Anche queste sono delle indicazioni che appaiono effettivamente veramente fuori dall'usuale. Queste indicazioni appaiono fuori dall'usuale perché normalmente chi professa qualcosa cerca di tenere a sé le persone che in qualche modo vuole convincere mentre questi maestri ci dicono proprio il contrario ti convince? Bene, stai qua stai qua finché ti convince nel momento che non ti convince più qualche cosa cerca da un'altra parte cerca qualche cosa che risuona di più dentro di te o che corrisponda meglio al tuo modo di pensare di ragionare queste guide ci danno degli stimoli ma ci lasciano liberi non ci legano a loro ciò che ci può legare a loro è solo accorgersi che siamo di fronte a qualche cosa di inusuale e che risponde effettivamente a ciò di cui abbiamo bisogno è un invito un po' a uscire io almeno lo vivo così un invito a uscire dalle vecchie abitudini della mente confrontarsi con qualche cosa che però non è qualche cosa di fumoso qualche cosa di un po' strano qualche cosa di poco chiaro seguendo proprio la parte di insegnamento quando inizieremo la parte di insegnamento vera e propria vi accorgerete di quanta logica c'è in ogni passaggio che faremo approfondendo le indicazioni delle guide tutto estremamente logico niente di fumoso di dogmatico niente che debba essere accettato semplicemente perché viene da qualcosa o qualcuno che ne sa di più o che appartiene a un'altra dimensione di esistenza loro ci hanno spinto incoraggiato a diffidare da queste di questa posizione mentale che debba accettare supinamente le cose ma ci hanno sempre spinto a cercare di capire utilizzare tutta la nostra mente per capire bene quello che ci viene detto e quello che ci viene detto ci viene proposto con una tale ineccepibile logica che è un po' difficile non riuscire non fare proprio ciò che ci viene imposto noi siamo persone di questa epoca usiamo il razziocinio siamo persone che vivono negli anni 2000 siamo abituati a una certa velocità della mente a fare collegamenti logici e conseguenziali quando una cosa è logica la nostra mente la può accettare ed è per questo credo che abbiano utilizzato questa modalità di comunicazione ma andiamo avanti con Dali il quale suggerisce qui nel 1959 comprendere ma correggere chi erra vogliamo ribadire il concetto di comprensione in modo che resti sufficientemente a tutti più volte vi abbiamo detto comprendete le creature e oggi lo ripetiamo ma che cosa significa comprendere? e questo è un passaggio per niente banale comprendere significa soprattutto amare capire perché le creature agiscono senza condannarle l'equivoco può nascere da questo non condannare perché ciò per voi significa approvare condividere non è così quando osservate qualcuno che è andato contro le leggi sia pure umane non dovete considerarlo un reprobo ma comprenderlo cioè convenire che molto probabilmente anche voi in circostanze uguali a quelle in cui si è trovato potreste commettere lo stesso errore questo però non vuol dire condividere lo sbaglio né dire a chi erra fa pure siccome comprensione è amore e chi cerca sempre il bene dell'amato chi comprende deve consigliare ed aiutare per il meglio colui che è oggetto della sua comprensione l'uomo non vuole la responsabilità degli errori perché questi non soddisfano l'ambizione del suo io e quando ne commette uno cerca ogni scusa per dimostrare la sua non colpevolezza quanta fatica sprecata nessuno è colpevole ma tutti dobbiamo imparare fu domandato a Buddha se fosse più vicino al nirvana chi errasse senza saperlo o chi fosse consapevole dell'errore commesso il maestro rispose che è più vicino al nirvana chi erra con consapevolezza perché in questi vi è perlomeno la coscienza dell'errore ed è verissimo l'errore pur essendo cosa soggettiva rimane tale che lo si commetta con consapevolezza o no e quindi cosa insensata dire non ha o non ho colpa così comprendere gli altri non significa scusare gli altrui errori o illudersi che non ne abbiano significa capire perché hanno errato e aiutarli a non più errare quando ve ne sia la necessità applicare quella che voi chiamate punizione non animati da spirito vendicativo ma dalla convinzione che quel castigo insegnerà a non più errare non fate come la società la quale quando non riesce con le proprie istituzioni ad educare i suoi figli li dà in mano al magistrato e al secondino perché più non le ricordano la sua incapacità siate comprensivi con gli altri come l'altissimo lo è con voi tanti e tanti sono i richiami per farci capire senza che dobbiate incorrere nell'esperienza di vita e se poi questa convinzione questa comprensione nonostante ciò non sboccia il dolore che provate non è evocato da un desiderio di castigo o di vendetta ma dall'amore di chi vuole il vostro vero bene e vorrei proseguire sempre cerco di soffermarmi poco sui commenti a parte che queste sono delle letture tutto sommato di facile accesso e credo che su queste voi possiate adesso meglio se alza la voce ma c'è una cosa strana con questa voce si sente poco sto quasi gridando davanti a questo compiuto va bene cercheremo di capire più avanti come mai adesso stavo dicendo che non commento troppo questi brani che sono di facile accesso e sui quali voi potrete riflettere leggendo fra l'altro le cose che il nostro amico Nicola Ferrentino che guida in qualche modo coordina ecco il gruppo degli amici del cerchio di Firenze a Milano Nicola Ferrentino lui ha messo questi brani come testo sia su questa pagina di Focus e sia sulla pagina il cerchio Firenze 77 una storia vera divenuta leggenda su questa pagina il cerchio Firenze 77 una storia vera divenuta leggenda troverete anche i testi in modo da poter seguire la lettura allora dico non mi soffermo più di tanto preferisco andare avanti per farvi ascoltare alcune altre cose di Dali però vi invito a cercare di notare la qualità della comunicazione di Dali mentre ci parla l'altruismo nella preghiera vi è stato detto pregate ma che cos'è la preghiera qual è il valore della preghiera per lui pregare significa formulare una petizione spesse volte pro domo sua come si usa dire oppure parole su parole senza seguire il significato logico di quello che si dice ma credete voi che la coscienza assoluta la coscienza assoluta viene usata dai maestri come sinonimo di Dio l'assoluto la coscienza assoluta credete voi che la coscienza assoluta abbia bisogno di essere informata per sapere credete voi che Dio abbia bisogno di essere lodato dall'uomo che cos'è allora la preghiera il Cristo come maestro disse pregate il padre vostro che è nel segreto cioè pregate quella fiamma divina che è in ciascun uomo e lasciò una bellissima preghiera il padre nostro la quale ha un profondo significato esoterico in essa è detto sia fatta la tua volontà e quando la preghiera pare che divenga una petizione si dice dacci rimetti a noi liberaci e non dammi rimettimi liberami perché non si deve mai pregare per se stessi ma per tutta la famiglia umana i vostri santi pregavano ma non pregavano per se stessi la più bella preghiera è l'azione ed è anche la più gradita ma non l'azione saltuaria non l'azione che potete fare in certe occasioni quando entro di voi è certezza e allora siete portati maggiormente a dare un piccolo aiuto al vostro prossimo ma quella di tutti i giorni è giusto dire la preghiera fatta con fede è una pratica magica l'uomo chiedendo con fervore si unisce al suo sé superiore lo spirito e trasforma questo suo chiedere in volere spirituale e in volontà in tutto ciò è il segreto della grazia ricevuta credere che l'ente supremo favorisca chi lo loda piuttosto di chi lo bestemmia è assurdo Cristo diceva domandate e vi sarà dato tutto quello che chiederete in nome mio vi sarà concesso sì diceva così il maestro dei maestri ma non vi diceva questo perché chiediate per voi stessi chi fa della preghiera un atto di egoismo fa della magia nera la preghiera come la intendete voi distrugge la fiducia in voi stessi perché è molto più comodo per voi chiedere che una cosa vi sia concessa piuttosto che faticare per ottenerla piuttosto che fare un atto di coraggio quando pregate pregate il padre vostro che è nel segreto dite sia fatta la volontà non la mia non domandate perché la coscienza assoluta non ha bisogno di essere informata in lei domanda e risposta sono un'unica cosa coscienza di tutto quando pregate cercate di ricevere ciò che potete avere dal vostro sé superiore lo spirito in esso è pace in esso è forza per progredire che non vi è concessa ma che voi avete trovato entro voi stessi questa è la preghiera e continuando sullo stesso argomento noi non veniamo per essere considerati dei maestri posti su degli altari e adorati avete già abbastanza feticci da adorare non veniamo per fare dei proseliti dei seguaci di un'etichetta semmai veniamo per distruggere tutto ciò distruggere ciò che vi inibisce la comprensione le suddivisioni razziali morali religiosi sociali e via dicendo tutto quanto vi impedisce di avvicinare i vostri simili e comprenderli se le verità che conoscete vi impedissero di andare incontro a chi non la pensa come voi voi non le avreste comprese e siete voi che dovete comprendere nessuno può farlo al posto vostro questo lo voglio proprio quest'ultimo pezzetto lo voglio proprio rileggere loro iniziano nella pagina 77 inizia dicendo non veniamo per fare proseliti e come vi ho detto non è mai stata loro intenzione di accrescere il numero delle persone che ascoltano le loro parole più avanti dice se le verità che conoscete vi impedissero di andare incontro a chi non la pensa come voi voi non le avreste comprese e siete voi che dovete comprendere nessuno può farlo al posto vostro e pensate a quanto noi siamo abituati invece a separarci a distinguerci dagli altri a prendere distanza tutte le volte che uno non la pensa come noi partito politico ma qualsiasi cosa squadra di calcio modo di fare una cosa che noi facciamo in un certo modo e qualcuno invece lo vuole fare in un altro no? quante volte noi ci distinguiamo e mettiamo distanza solo per questo solo perché quello ha un'opinione diversa e questi ci dicono se le cose che conoscete vi portano ad allontanarvi dagli altri non vi permettono di accogliere gli altri benché la pensi in maniera diversa è un passo molto grande da fare questo per noi siamo ancora molto distanti da questa consapevolezza discepoli della verità noi veniamo per agevolarvi la comprensione non per essere un ostacolo in più vi parliamo di verità ma le nostre parole rimangono aride sterili se voi non le comprendete e per comprenderle dovete avere la volontà di capirle noi non parliamo per tutti parliamo per quelli che sono insoddisfatti di ciò che sanno chi non desidera approfondire ciò che conosce chi è sereno nella concezione che ha della vita non tenga in nessun conto ciò che noi diciamo ma chi vuol capire deve sacrificare una parte di se stesso per comprendere ciò che ha aiutato nel cammino trascorso non deve trasformarsi in un pesante fardello in quello ancora da compiere la rileggo e questa frase non l'ho capita ciò che ha aiutato nel cammino trascorso non deve trasformarsi in un pesante fardello in quello che ha ancora da compiere certo ha ancora da compiere del cammino e quello che ha aiutato prima non deve diventare un freno per il nostro percorso per andare avanti quando parlo di cammino da compiere e di comprensione non intendo riferirmi a nozioni da acquisire e ritenere con la memoria non si tratta di questo nozioni che poi possono essere anche dimenticate ma parlo di quella comprensione che è liberatrice che non è un processo della mente ma che dona un nuovo sentire un nuovo essere e perciò non può essere obbliata non è qualche cosa da ricordare che se lo devo ricordare me lo posso anche scordare ma se diventa parte di me non c'è da ricordare niente sono diventato quello sono io e con me una tale comprensione non si raggiunge facendosi discepoli di qualcuno in particolare ma facendosi unicamente discepoli della verità ovunque essa sia di nuovo l'invito ad aprirsi ad accogliere ciò che sentiamo giusto per noi vero per noi questo questo ultimo breve brano che vi leggo conclude la lettura di oggi conclude la lettura di oggi e conclude questo primo approccio non posso trasmettervi il profumo di violette che c'era mentre Dali parlava ogni volta cercate di immaginarlo in quest'ultimo suo anelito molto mistico si rivolge a noi con queste parole adesso immaginate di ascoltarle con gli occhi chiusi dentro a questa stanza pervasa da questo meraviglioso profumo di violette mentre sentite una voce molto dolce non la mia così impetuosa come oggi ma una voce molto dolce che dice o altissimo signore poiché tutto per una sublime legge di armonia è attratto e si avvia verso l'ambiente adatto a lui fa che la nostra paura o la nostra ribellione non si oppongano al compimento di questo divino principio fa che mai ci sentiamo soli dove dovremo andare ma che ognuno ti senta vicino a sé poiché tu sei ovunque fa che tua volontà sia la nostra che ogni nostro simile non sia un estraneo per noi ma un fratello aiutaci ad amarlo come tu lo ami se alcuno di noi sarà provato fa o altissimo che egli abbracci il dolore comprendendone l'intimo significato a ciò che il suo cuore non si inaridisse fa che nessuna cosa di questo mondo di illusioni ci leghi a sé che quella sicurezza spesso cercata nelle creature e nelle cose sia trovata nell'intimo nostro poiché solo quella è reale e duratura e quando amareggiati dalla delusione chiniamo la testa fa o signore che la vita ci apparisca quello che realmente è il tuo più grande dono con queste parole di Dali con queste parole di Dali noi chiudiamo la parte di lettura e adesso cerco di leggere qualche cosa se c'è qualche domanda che voi potete rivolgermi adesso vedo che siete molti ci sono tante domande ora sono parole attuali anche nei giorni nostri perciò non hanno tempo sono eterni è vero sono d'accordo con te ogni giorno siamo un nuovo sentire ecco cosa significa per me sì 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 Enrico riesce a far risultare agli amici la voce di Dali ci riuscirò prima o poi la prossima volta cercherò di organizzarmi anche a questo scopo ma per adesso non ce la faccio anche perché non sono così tecnologico ne vedo moltissimi commenti capisco anche che non ci siano motivi di adesso di porre delle domande credo che verranno io cercherò di venire di aiutare il più possibile quando faremo le parti di insegnamento e proprie allora farò del mio meglio insomma come meglio posso per dare un piccolo contributo a comprendere quello che stiamo facendo nel tempo vi invito a leggere sul volume dai mondi invisibili edito dalle mediterranee vi invito a leggere la voce successiva che legge la prossima volta che è quella di Claudio quindi rilettevi Dali fate considerazioni su quello che abbiamo letto oggi prendetevi un appunto se volete fare una domanda la prossima volta cerchiamo di vedere se è possibile rispondere e anticipatevi con la lettura su Claudio che è molto molto particolare credo che sarà qualche cosa che ci farà anche ragionare sopra un argomento che è molto toccante per tutti il conosci te stesso che propone la voce Claudio noi ci vediamo con molto piacere fra due settimane ringraziando ancora focus 3.0 il mistero della vita e ringraziando Anna la quale ci ha messo in condizione di fare questa esperienza e di entrare in contatto e ha creato questo spazio questa università della conoscenza e ha creato questo spazio perché voi veniste in contatto anche insieme a tante altre cose anche con gli insegnamenti del Cerchio Firenze 77 vi auguro buonissima vita e ci vediamo tra due settimane grazie a tutti